La carovana dell'EcoTrail conquista la Valle dell'Ippari. Ieri in una giornata assolata e di grande festa si è disputata la terza edizione dell'EcoTrail della Valle dell'Ippari nella suggestiva cornice della riserva naturale del Pino d'Aleppo. Oltre 200 gli amanti della natura che si sono avventurati lungo i 17 chilometri del percorso tracciato dall'associazione sportiva ragusana Noal Doping e Alla Droga, che ha organizzato la tappa valide a quale terza prova dell'EcoTrail Sicilia 2013. Il circuito di corsa è in natura promossa dall'associazione Sport Action in collaborazione con il Dipartimento regionale Azienda Foreste De Magnale e con il Centro regionale Tre Pianti della Sicilia. A vincere la gara valida anche come prova del Grand Prix Provinciale di Corsa Vincenzo Schembari dell'Atletica Padua Ragusa davanti all'accompagno di squadra Massimo Canzonieri e al solito Giuseppe Cuttae dell'AS di Panormus. Solo quinta la maglia verde è il leader del circuito Abdelacrimi-Bolumic che era imbattuto dall'EcoTrail dei Monti Sicani dall'ottobre 2011. Tra le donne Graziella Bonanno della podistica Messina ha preceduto Anna Catania dell'Axi e Laura Cascone della Barocco Running Ragusa. Tanti partecipanti poiché dalla villa comunale di Vittoria si sono avventurati in passeggiate e escursioni guidate alla scoperta delle peculiarità naturalistiche e paesaggistiche della Val dell'Ippari. Archeviata con successo la tappa ragusana, la carovana dell'EcoTrail Sicilia farà visita ad un'altra valle, quella dell'Imera, per l'EcoTrail della Valle dell'Imera in programma il prossimo 23 giugno a Caltanissetta.